40 ore di diretta streaming, 30 speakers, tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato dal Radio FSC Unimore. Ciao, continuano le nostre interviste di Radio FSC Unimore, siamo qui ora con Giulia Brighenti che è la progettista freelance che si è occupata di un nuovo progetto che sta per iniziare, inizia domani, Cave. Sì, esatto, Cave che in realtà è gestito e organizzato da 20-30 e che fa parte del programma appunto di Smart Life e quest'anno abbiamo voluto aprire una finestra importante sull'editoria indipendente in, diciamo, il rapporto con quello che è l'arte digitale. Detta così sembra uno simoro, qualcosa di totalmente opposto, ma in realtà parliamo di una linea comune, nel senso che gli stessi editori, gli stessi collettivi, le stesse persone che lavorano dietro l'editoria, che lavorano dietro la creazione di contenuti, in realtà approdono e utilizzano e fruiscono da tutto quello che è il mondo digitale e quindi sicuramente questa occasione, questo festival, rende il tutto contemporaneo. Quanto lo è, secondo noi, anche il progetto di Cave che ha voluto mettere a tavolino due realtà che, diciamo, in un pensiero un po' stereotipato sembrano due mondi separati, invece non lo sono. Ti volevo chiedere, l'idea dietro Cave, tutto questo progetto, siete stati voi a fare attività di scouting per gli editori oppure sono loro che sono stati attratti da questo progetto? Eh no, in realtà come prima edizione, 20 e 30, comunque ci siamo dovuti tutti noi del team sforzare nel far nascere una cosa che è nella sua prima edizione, quindi sicuramente l'inizio è stato quello di più che cercare, anche raccontare, perché noi non volevamo fare una fiera, noi volevamo fare un incontro che è diverso, quindi volevamo delle realtà che venissero, diciamo, con l'idea di, appunto, confrontarsi, raccontarsi, mostrarsi e quindi volevamo creare un rapporto e nel creare rapporto abbiamo preso anche diversi treni, ci siamo spostati, abbiamo voluto vedere le realtà, abbiamo voluto vedere gli spazi di questa realtà, perché è, oltre alla parte fisica in sé per sé, che può essere il catalogo, il libro d'arte, il magazine, la zin, quello che interessa a noi è il collettivo, il raccoglitore, quindi è partita così, poi in realtà piano piano ha preso sempre più forza, sicuramente Smart Life Festival è una manifestazione unica e importante e quindi sicuramente poi l'ascolto c'era sempre, ecco. E quali sono le caratteristiche che cercavate in questi editori indipendenti? Allora, le caratteristiche in realtà, diciamo che oltre al rapporto che dicevo prima, quindi la voglia di confrontarsi e la voglia di crederci in questa evoluzione, perché a volte quando si parla di stampa o di editoria c'è ancora chi ha un approccio un po' hostile e invece noi vogliamo far capire quanto in realtà siano delle finestre di dialogo importantissime, contemporanee, fuori dal comune e che interrogano e incontrano le persone, perché è così. E poi c'è anche una parte di posizionamento culturale, contemporaneo, chiamiamolo come vogliamo, però in realtà cercavamo anche chi attualmente fa ricerca e si mette in gioco e crea e fa contenuti, quindi questa è la cosa che guardavamo di più. Magari andrete anche a lanciare qualche giovane editore, ho visto che fa parte del progetto di Milano. Sì, sì, no, infatti è sicuramente un'occasione per tutti e infatti durante le due giornate ci saranno anche workshop, portfolio review e ci saranno diverse attività apposta per giovani designer, giovani creativi, insomma, che potranno confrontarsi, incontrarsi, io ripeto sempre questa parola, ma perché per me è molto importante. Sì, per me è molto importante, sì, sì, per quanto stiamo parlando di digitale, in realtà si parla di digitale parlandosi, quindi sì, questo è. E poi, vabbè, in realtà è per tutti, perché, ripeto, dietro l'oggetto fisico c'è anche tutto un collettivo, quindi come in tutti i collettivi ci sono tante sfaccettature nel mondo culturale, artistico. Ci ha raccontato qualcosa prima anche Alessandro Giumbo Manfredini e ci ha raccontato di come si è andato anche a scavare nel vecchio e da rielaborare e far diventare nuovo, quindi l'incontro di queste diverse generazioni. Qual è stata la difficoltà che avete trovato appunto nell'organizzare qualcosa di così complesso e trasversale? Il dover raccontare, nel senso il dover far credere nel far trovare il coraggio, il coraggio, perché comunque, come tutte le cose, partire da zero ci vuole tanto coraggio, perché non hai idea di quelle che potranno essere le prospettive e secondo me, secondo noi, secondo tutto il team di 20 e 30, Giumbo, quella che è la squadra. Abbiamo, insomma, il coraggio di dire quando siamo partiti dal nome, perché tutto è partito dal nome, sapere che poi effettivamente sarebbero venuti, diciamo, diverse entità di cui siamo enormemente grati e fieri di avere qua a Modena, perché poi molti vengono da lontano, molti comunque fanno tanti progetti e quindi siamo molto contenti di questo. Si parla, ricordiamo, di editori indipendenti, quindi... Sì, in realtà editori indipendenti, agenzie, studi di art direction, studi di musica, cioè ci sono davvero tante realtà molto differenti tra loro, cosa che preferisco e perché diventa anche, insomma, diciamo, su diverse sfaccettature e è aperto a tutti e è anche più interessante secondo me, perché poi, insomma, ci sono anche altre grandi realtà sull'editoria indipendente, però diciamo che questa apertura meno verticale lo rende ancora più contemporaneo, è ancora più applicabile a quello che è Smart Life Festival e al mondo digitale. Ancora la prima edizione non è iniziata perché inizierà domani, aprirete al laboratorio aperto di Modena, quindi dobbiamo ancora pensare alla prima edizione, ma cos'è che vorrete portare poi in futuro? Ci sono già dei progetti di allargamento su questo fronte? Beh, sicuramente quello di continuare a conoscere queste realtà, perché, ripeto, conoscere, conoscere significa anche collaborare, significa anche evolversi e quindi questo sicuramente in primis. Poi dopo da lì a livello progettuale, strutturale, bisognerà vedere un po' come risponde la città, come risponde l'evento in sé per sé, ci sono sicuramente buone prospettive, l'idea è quello di continuare a farlo, però insomma durante l'anno non vorremmo che diventasse l'evento, ma diventasse un progetto, quindi sicuramente... Un continuo evoluzione. Sì, esatto. Sono molto felice di aver parlato con te oggi, aver scoperto questo bellissimo progetto, speriamo di incontrarci nelle future numerose edizioni. Grazie Giulia, noi qui vi sosteniamo, crediamo molto in questo progetto e speriamo di sentirne parlare sempre di più. Sì, sì, no, grazie e poi insomma ci tengo a sottolineare che questo è dovuto anche grazie a delle persone che non sono con me presenti, quindi... Sì, c'è tutto un background che sostiene questi festival e questa iniziativa. Va bene, io vi ringrazio per l'occasione. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. 40 ore di diretta streaming, 30 speakers, tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato dal radio FSC Unimore.